Per la prima volta da quando è scoppiata la pandemia in Piazza dei Cionpi torna arte facendo la mostra mercato dell'artigianato di qualità si riaffaccia con la speranza di lasciarsi alle spalle i mesi più difficili e riprendere a pieno la propria attività. Dopo 15 mesi di pandemia e quindi di chiusura, ecco, per il soggetto sale dell'artigianato artistico si torna in una bellissima piazza di Firenze, la piazza dei Cionpi e noi siamo molto felici di questo perché c'è bisogno del contatto con il pubblico, c'è bisogno di ripartire dalle buone relazioni sociali che sono quelle di cliente, venditore, produttore. Non conta solo la parte commerciale, c'è anche l'emozione di tornare fra le persone, parlare dei prodotti di artigianato, toccarli con mano e scambiare opinioni. L'artigianato va proprio visto, toccato, è un'esperienza, quindi essere tornati qui è, penso, una gioia per tutti. Questi sono tutti artigiani aderenti alla CNA, noi facciamo questo regolarmente, questo facevamo, ora ricominceremo, artefacendo, che riunisce appunto dei veri artigiani, cioè persone che hanno bottega, con strumenti di lavoro, mestieri un po' desueti. Quello che a noi interessa più di tutto è far vedere che ci sono dei prodotti tipici di Firenze, dei pezzi unici, fatti da maestri dell'artigianato e questo è artefacendo.